Buongiorno, buongiorno e bentornati. Siamo arrivati in questa edizione di Mattino 6 di mercoledì 27 settembre 2017, pronti come sempre a farvi compagnia attraverso le pagine dei quotidiani locali, le prime pagine dei quotidiani nazionali, anche rivedendo i servizi realizzati ieri dalla redazione del TG6. Iniziamo come sempre la nostra rassegna attraverso le prime pagine dei quotidiani locali, partendo dalle quattro edizioni del centro. Qui siamo sull'edizione di Pescara, il titolo d'apertura è di nuovo sul delitto Bevilacqua a Montesilvano. Con le parole del presunto killer, ieri è stato interrogato, Fantauzzi non volevo uccidere l'arrestato, si difende il colpo di fucile esploso per errore. E poi la fotonotizia al centro, l'altra Bussi, Arsenico sotto le case e scatta l'inchiesta, piano d'orta ipotizzata, l'omessa bonifica per la discarica ex Montecatini. E poi di spalla per la cronaca, scontro tra auto e moto, gravissimo un ragazzo, incidente a Spoltore. Poi ancora in taglio medio la protesta, medici di base oggi in piazza contro la ASL. Poi per il calcio a Pettinari, il centravanti capocannoniere della B, rivela, stavo mollando, poi ho svoltato. E poi in basso ancora Ius Soli, Alfano si sfila al Senato, non ci sono i numeri, Andrangheta, Seregno, sindaco ai domiciliari, 27 arresti al nord. Giro d'Italia 2018, l'Abruzzo prova a tenersi la tappa. E quindi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, quei baci a Pizzichil, senza bigliettino. Lasciamo l'edizione di Pescara, vediamo quella aquilana con l'apertura, segretario comunale a processo. L'Aquila, altri due, rinvia giudizio per la vicenda del concorso truccato ex OMPI. E poi di spalla, l'Aquila, la notte dei ricercatori, festa del sapere per tutti. Ad Avezzano, il CSM assegna al tribunale tre magistrati. Pesca Seroli, sindaco, vieta di dare cibo agli orsi. E poi l'edizione teramana del centro con l'apertura. Pentito, ordinò, uccidete presutti. Silvi è il secondo indagato per lo sparo a vuoto al direttore della motorizzazione. Poi di spalla, a colonnella, Bancomat fatto esplodere e il quindicesimo colpo. In basso, gli aiuti per le imprese della vibrata pronti, 15 milioni. L'Avertenza, Atria, Picchetti e i Cancelli. I tir restano fuori. Ed ora andiamo a vedere l'edizione di Chieti del centro. In manette, la banda del fotovoltaico. Al lanciano blitz dei carabinieri, sette arrestati, otto ricercati. Giro d'affari da mezzo milione. Poi di spalla, a Lanciano, la città piange valente. Addio all'ex vicesindaco. In basso, a Chieti, sanità i politici. Pescara vuole farci uno scippo. Sempre a Chieti, la rivolta degli avvocati contro l'Inps. E ora la prima pagina del messaggero Abruzzo, con il delitto bevilacqua ancora in primo piano. Ecco il titolo d'apertura. Il mio amico mi ha detto, spara, a Pescara, omicidio bevilacqua, a Fantauzzi. Parla e chiama in causa del secondo uomo. Dovevamo gambizzare Antonio e un'altra persona. Ho sbagliato a prendere la mira. E poi, sotto la testata, leggiamo a Chieti, bicentenario con Uto Ughi, poi tre opere alla Civitella. Per la Serie D, per il calcio di Serie D, nessuno paga gli stipendi. L'Aquila rimane senza società. E poi, Serie B, le parole del Presidente Sebastiani, Presidente del Pescara. Aspetto i gol di Ganze e Mancuso. Il Presidente fa il punto dopo le prime giornate e annuncia il rinnovo del contratto per cinque anni a Benalì. Il malumore di Fiorillo in panchina. E poi, di spalla, barriere marine per attirare i turisti. La regione in Bulgaria, dove sarà esaminato il programma legato alla Blue Economy. E poi, la fotonotizia al centro, con il lutto che ha colpito Lanciano, uno dei suoi politici più amati e apprezzati. Lanciano ha morto il Vice Sindaco Valente, il dolore di Pupillo. Il sindaco, perdiamo un politico appassionato. E poi, super ospedale, no ai medici dalla regione. Pescara e chieti divise sulle competenze. L'assessore Paolucci, scelte già fatte. E poi, in basso, l'inchiesta di Firenze. I prof traditi dalle telefonate. E adesso, la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ancora la cronaca in apertura. Finto, povero scoperto all'estero. Maxi inchiesta della Guardia di Finanza sugli assegni sociali IMSS da 450 euro. 370 gli indagati. E poi, sotto la testata, banda della marmotta alla Tercas di Colonnella. Ventesimo colpo ai Bancomat, rubati 15.000 euro. E poi, a Castelnuovo, i funerali del barista 26enne. Centinaia in piazza per l'addio al Panda. La fotonotizia al centro. Mamme truffatrici raccoglievano beni su Facebook per i terremotati. E li rivendevano online. Di spalla, l'ex esorcista Don Luigi lascia l'abito e torna nell'aico. Domenica, l'ultima messa. E a Teramo, multa in ZTL per il SUV del sindaco Brucchi. E in basso, tassa di soggiorno della discordia. Roseto, occhi puntati sul sindaco. Finora, sempre contrario. E poi ancora, a pie di pagina, Giulia Nova, maiale in fuga, semina il caos sulla statale. La guida 2018, quattro chef terramani tra le migliori osterie segnalate da Slow Food. Lasciamo i quotidiani locali. E ora passiamo alla nostra rassegna delle prime pagine delle principali testate nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Ecco il titolo d'apertura. Lavoro e alloggio a 75 mila profughi. Piano del governo. Alfano affossa la Ius Soli idem. Un errore. E poi la fotonotizia. Il presidente francese, l'Unione Europea non è morta. Macron è un esercito per l'Europa. In taglio medio, Ndrangheta, il sindaco scelto dai boss. Colpo ai clan in Lombardia. Regione indagato ex vicepresidente. 24 in cella. Poi ancora andiamo avanti con la prima pagina di Repubblica. Ecco l'apertura. No di Alfano. Affondalo. Ius Soli. A Pisi sfila. Non lo votiamo. Sarebbe un regalo alla Lega. Salvini esulta. Lo abbiamo fermato noi. Il PD. Cercheremo altri voti. Tensione a sinistra. MDP attacca. Gentiloni dimostri di essere autonomo. Di spalla. Chi è l'inchiesta? Caso Consip. Il triplo gioco intorno a Matteo Renzi. Anche Repubblica con la fotonotizia. Il presidente Macron in primo piano. Gli Stati Uniti d'Europa. Ecco il sogno di Macron. Diritto d'asilo. Polizia ed esercito in comune. Entro il 2024. In basso leggiamo da una parte. Università. Il regno dei senza merito. Cantone. Cambiare le commissioni. Il magistrato. Controlli e meno incarichi esterni. E poi da quest'altra parte. Brianza. Così il sindaco sceriffo prendeva i voti dell'Andrangheta contro Rom e migranti vicino alle famiglie. E poi ancora la prima pagina della stampa. Il manifesto di Macron per l'Europa. Il presidente francese. Rilancio dell'Unione Europea con difesa comune. Diritto d'asilo e procura antiterrorismo. Con Berlino in affanno e la Spagna verso il referendum. L'Eliseo prende l'iniziativa. E oggi l'incontro con Gentiloni per l'accordo sui cantieri. La fotonotizia al centro. Donne al volante. La rabbia dice sì. Il re saudita abolisce il divieto di guidare. Il simbolo del fondamentalismo. E poi ancora andiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 ore. A Fincantieri il controllo di STX Maxi Alleanza. Alston Siemens nasce il secondo costruttore mondiale di treni dopo i cinesi di CRRC. Gentiloni oggi al bilaterale di Lione. Primo accordo sul militare. Tutelate le prospettive commerciali di Leonardo. In basso Fintech la BCE prepara la stretta. Milano inaugura il district Panetta di Banca Italia. Una opportunità per l'economia. Più capitale e competenze specifiche per gli operatori digitali che vogliono la licenza bancaria. Avanti ancora con il fatto quotidiano. Ecco il titolo d'apertura. Il PD è in bolletta. Renzi parte su un treno da 400 mila euro. Chi paga la campagna elettorale con locomotore e cinque vagoni di un Intercity. E poi due richiami sotto la testata. Concorsi, Fantoziani contro Tremonti, Boys, il metodo del coniglio. Nomi per far quadrare interessi. E poi il giallo, Vatilix, terzo in pallina, Beciu, il papa italiano. Il bersaglio stavolta è il braccio destro di Francesco. Quindi andiamo in basso. Non solo Consip, Russo e l'appalto FS da 36 milioni al finanziatore dei DEM a Rignano. La rete del compare di Babbo Tiziano. Avanti con il manifesto. Ecco il titolo d'apertura. Voto di scambio. La questione dello Ius Soli per noi è chiusa. Alfano pensa alle urne e offre agli elettori il no alla cittadinanza per i figli degli immigrati. Sarebbe un regalo alla Lega. Salvini già ringrazia. Il PD cercheremo i voti in aula, ma senza fiducia. L'impresa è impossibile. La prima pagina del messaggero alloggi e sanità. Il caso profughi. Le regole del Viminale per l'integrazione, il dovere di conoscere l'italiano e di rispettare le donne. Allarme di Lombardia, Veneto e Liguria. Troppi diritti. Ius Soli, stop di Alfano. Ma il PD si va avanti. Sotto la testata. Champions League. La Roma a Baku. Cerca la svolta in Europa. Turnover contro il Carabag. E poi anche il messaggero. Tra virgolette regala la fotonotizia al presidente francese Macron. Macron manifesto per la nuova Unione Europea. Esercito, bilanci e tasse in comune. Oggi il vertice italo-francese intesa su STX. Taglio medio. Statali salvo il bonus da 80 euro. Ma un fronte scuola sul contratto. Manovra in arrivo uno stanziamento da 1,65 miliardi per il rinnovo. Avanti ancora con il tempo. L'apertura. Ecco gli sciacalli del terremoto. Le carte dell'inchiesta. Più ristoratori romani nei guai per false residenze da matrice. Spariti i soldi dell'asilo. Truffa sugli abiti dei sopravvissuti. Casette pagate e mai consegnate. E poi la fotonotizia. Più lo paghi, più cambi canale. Il milionario Fazio sconfitto da tutti in tv. Dopo Morandi va a K.O. Oppure col grande fratello. Di spalla il verdetto dei sondaggisti per il Lazio. Il vero Giolli e Pirozzi. Il sindaco di Amatrice. C'è la prima pagina di Libero che andiamo a vedere. Arriva la mafia nigeriana e batte la nostra. È il colmo. L'Italia perde il primato pur in campo criminale. Molto più organizzata della piove e dell'andrangheta. La denuncia di questa realtà viene dal Times e dal Guardian. Silenzio imbarazzato delle forze dell'ordine nazionali. E poi la fotonotizia con il ministro Minniti. Persino Minniti sbraca. Paga le case ai profughi invece che agli italiani. Avanti ancora. Siamo con la prima pagina della verità. Ecco il titolo d'apertura. Marciano a favore dell'aborto e fanno la guerra agli anziani. L'Italia ce l'ha a morte. Con la vita la CGL scende in piazza per chiedere di cancellare i medici obiettori. L'Issat segnala che l'assistenza sanitaria per chi ha più di 75 anni è tra le peggiori d'Europa. Due segnali di un paese impazzito. E poi il premier Gentiloni a centro pagina nella fotonotizia. A fare fincantieri. Gentiloni è pronto a calare le brache con Macron. E poi in basso scandalo della Banca Popolare di Vicenza. Le mail che sbugiardano Banca Italia. Già nel 2012 gli uomini della vigilanza sapevano tutto della pratica illegale dei prestiti baciati. Il crack poteva essere evitato. La prima pagina di avvenire. Ci avviamo dunque verso la conclusione della rassegna nazionale. L'apertura dell'avvenire. Profughi integrati con diritti e doveri sullo IUS culture. Al fano chiude. Il PD non cede. Ecco le linee guida su protezione umanitaria e accoglienze. Impegnati comuni e terzo settore. Studio italiano e Costituzione. E poi il secolo XIX. Vediamo l'apertura. Carige. Le tre condizioni per ripartire la banca. Continuità a rischio se non centriamo gli obiettivi. Risposta a Consob alla vigilia dell'Assemblea. E poi il mattino il codice per truccare i concorsi, i giudizi contraffatti del docente arrestato, le assistenti. Così finiamo in cella le intercettazioni del docente Amatucci. Ha fatto tanta ricerca. Scrivi che non è maturo. E poi sotto la testata lo sport. I fantastici quattro. Napoli. Il Napoli in Champions stand del Feyenoord. Con Insigne, Mertens e Caglie. Con Miracoli di Reina. Che para anche un rigore. Possiamo lasciare la rassegna dei quotidiani nazionali. Le prime pagine nazionali. Iniziamo a sfogliare all'interno le pagine dei quotidiani locali. E partiamo dal centro. Qui siamo subito a pagina 2. Sport e turismo. Giro d'Italia. L'Abruzzo prova a tenersi la tappa ma deve trovare i soldi. L'assessore Di Matteo è un'occasione per far rivivere le nostre aree interne. Da farindola a Campo Imperatore. Disastrate da incendi e maltempo. Gli organizzatori non prevedono il passaggio in regione nel 2018. E c'è poco tempo per rimediare. Anche alcuni sindaci, quelli di Francavilla, Vasto e Lanciano, hanno chiesto l'arrivo della carovana in città. E poi in basso, incontro a Mostar, Ipadriatic, occasione di crescita di Salvatore dal programma dell'Unione Europea. Forte impatto sugli stati dell'area. E poi la polemica a Monticelli. Forza Italia dica dove è finito il suo master plan. Andiamo ora a pagina 3. Campagna Enit. La regione verde conquista il popolo di YouTube. In 30 giorni, oltre 8 milioni e mezzo di visualizzazioni. Molti gli utenti esteri, tedeschi, olandesi e britannici. In basso, aggiornata la piattaforma IMSS. Voucher per l'agricoltura. Ok, alle raccolte d'autunno. Proseguiamo. Siamo a pagina 4. Ancora con la discarica dei veleni di Bussi in evidenza. Veleni accanto a Bussi Arsenico. Sotto le case scatta la maxi inchiesta. Piano d'orta, il PM ipotizza. La promessa bonifica per la discarica ex Montecatini. Rispunta una consulenza shock. La falda acquifera è compromessa. E poi in basso la foto che lo prova le indagini dello zoo profilattico. Acqua rossa e tanto mercurio nei pesci. E poi ancora una nuova scoperta, restando sempre in argomento. Una immagine rivela l'area ad alto rischio è molto più ampia. L'ambientalista De Sanctis individua l'errore grazie a una mappa e informa subito il Ministero dell'Ambiente. Scatta l'indagine BIS. Avanti ancora, siamo nelle pagine di Pescara della cronaca. Torniamo a vedere notizie riguardanti il delitto di Montesipano. Il delitto Bevilacqua l'ho ucciso per errore. Volevo gambizzarlo. Fantauzzi si mostra pentito. L'intenzione era dare una lezione al ragazzo. Il colpo è partito per sbaglio e tira in ballo l'amico. che lo accompagnava. In basso la famiglia della vittima. I responsabili sono tre. I parenti del giovane ucciso insistono. C'è un terzo uomo che ha trattenuto Antonio dentro il locale. E poi ancora c'è la replica dell'amico tirato in ballo da Fantauzzi nell'interrogatorio di ieri. È solo una ritorsione. L'amico coinvolto da Fantauzzi ribadisce la propria estranità. E poi in taglio o meglio il prefetto vuole le telecamere ovunque. Piano per la sicurezza nell'area metropolitana. Occhi elettronici anche nei boschi per prevenire i roghi. Allora ieri si è svolta questa assemblea, questa riunione in prefettura. Con forze dell'ordine e amministratori locali. Ascoltiamo le parole del prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Abbiamo alcuni edifici scolastici su cui c'è la massima attenzione. Dove c'è necessità di un intervento da parte dell'ente locale e da parte dell'ente provinciale. Li abbiamo i nomi. Abbiamo anche sentito i tecnici. Ci hanno dato un programma per effettuare determinati e specifici lavori. Questo programma verrà attenzionato anche da un tavolo operativo che è stato costituito in prefettura per cercare di seguire e ovviamente di stimolare che si faccia presto. Il dirigente del compartimento della Polizia Postale stamattina è stata chiarissima. È un problema attuale. Ormai i giovani riescono ad avere questa attenzione sul mondo della rete che non dà soltanto delle cose positive, anzi molte sono negative. Abbiamo deciso di formare un altro tipo di esperienza. incontrare i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti dei docenti, i presidi e i rappresentanti degli studenti qui in prefettura per insieme al dirigente del compartimento della Polizia Postale per cercare di confrontarci, capire bene come si opera in famiglia, capire bene quale consigli è opportuno dare alle famiglie perché siano più attenti a cosa fanno i ragazzi, cercare di capire gli studenti che ovviamente rappresentano gli altri studenti in che modo si vogliono confrontare con i più deboli, con quegli studenti che hanno più necessità di essere aiutati. Poi ci sarà un importante progetto che riguarda la videosorveglianza nell'area metropolitana di Pescara. Questo è un programma che fa parte di un progetto di Pescara Sicura. Riguarda un perimetro che le forze di polizia hanno previsto su cui allestire un sistema di videosorveglianza che comprende i più comuni. Essendo un unico comune ci necessita una procedura amministrativa che convolga più enti. Spero che questo progetto venga presentato al prefetto al più presto in modo da chiedere i finanziamenti a chi di dovere, a chi già si è impegnato a dare. Per esempio stamattina c'è il Presidente della Camera di Commercio che ha confermato di voler partecipare finanziariamente a questi progetti sulla sicurezza della città e della provincia. Sempre sul centro andiamo a pagina 17 Burocrazia sfissiante, medici e pazienti in piazza La Asla applica la direttiva regionale e dispone una nuova procedura per la richiesta di pannoloni e altri dispositivi Difendiamo 2.500 malati Oggi la protesta Poi ancora in taglio medio In 26.000 al centro d'aiuto della stazione i dati dell'osservatorio sul disagio e la solidarietà allo scalo Il 25% degli utenti è italiano Poi ancora a Pescara il Consiglio da il Via Libera al piano sociale da 14 milioni Dopo due sedute a vuoto maggioranza e opposizione hanno trovato l'accordo su alcune modifiche al documento rafforzata l'assistenza ai cittadini più deboli In basso Pescara svela il progetto del nuovo stadio Domani seminario alla Camera di Commercio per presentare la struttura da realizzare nella zona sud Avanti ancora Il caso finisce in comune con un vertice Riviera troppo caotica in 600 contro la Movida Comitato dei cittadini chiede di anticipare l'orario di chiusura dei locali notturni Il sindaco non posso spegnere la musica ma potenzieremo i controlli dei vigili E poi in taglio medio classico ora è scontro sui costi della mensa Il sì del tar alla settimana corta non spegne le polemiche ogni lunedì dal 2 ottobre si pranza a scuola E poi ancora qui siamo a Spoltore schianto con la moto ragazzo è grave scontro con un'auto sulla strada per Santa Teresa di Spoltore il ventenne è stato operato ed è ricoverato in rianimazione E poi di spalla notte dei ricercatori Debutta il premio dedicato all'ex sindaco di Pescara Carlo Pace Pagine di Montesilvano Comitato civico di nuovo in piazza Stop al degrado Indagato per odio razziale e violenza privata Il portavoce di hashtag riprendiamoci Montesilvano convoca un altro sit-in E di spalla leggiamo da venerdì riapre la fiera Hobby Show al Paladin Martin E poi Comitato 28 aprile non morirà il ricordo di Dezio delegazione di Saunara in città per il generale trucidato dai nazisti Avanti ancora siamo a Francavilla turismo solo segni meno i dati ufficiali negativi della regione Abruzzo registrano cali di arrivi e di giorni di permanenza nel triennio 2014 2016 a San Giovanni Teatino opere per 3,4 milioni c'è anche una scuola nuova convenzione con Terna sulle misure di compensazione dell'elettrodotto Avanti siamo in Val Pescara senza il transito dei tir non possiamo lavorare a Cappellere dunque nella Valtavo a dire la verità ricorso collettivo al Tar di un gruppo di ditte della Valtavo contro l'ordinanza che vieta il traffico ai mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate poi di Spalla Pianella sicurezza scuole comunali incontro con genitori e prof a Penne invece un branco di cinghiali nel Parco del Sole irruzione dei selvatici per circa due ore in una delle aree più verdi in una delle aree verdi più frequentate della città Pagine Aquilane la città del sapere la kermess della scienza venerdì torna la notte dei ricercatori con esperimenti e conferenze in centro e qui tutti gli appuntamenti di questa notte davvero tanti che sono riepilogati in questa tabella del centro nella pagina Aquilana e poi ancora Antolini divulgare l'amore per la ricerca tra i più giovani la coordinatrice dell'evento indica lo scopo dell'iniziativa allargare il più possibile l'accesso alla conoscenza uno dei temi che saranno maggiormente trattati è quello legato alle onde gravitazionali e poi scrittori come Dan Brown e Crichton con le loro opere hanno avvicinato tanta gente a queste tematiche avanti con la pagina di Chieti e Provincia addio al guerriero Pino Lanciano piange valente l'ex vice sindaco morto a 47 anni in ospedale a Chieti dopo 4 mesi di agonia alla carica aveva dovuto rinunciare a causa della brutta infezione che lo aveva colpito il primo giugno scorso erano seguiti ricoveri operazioni e fisioterapia fino a una nuova crisi la camera ardente allestita all'ex casa di conversazione i funerali si svolgono alle 15.30 nella cattedrale della Madonna del Ponte proclamato per oggi il lutto cittadino e poi ancora la pagina di Teramo colpo di pistola a vuoto l'accusa pentito di mafia e il mandante del tentato omicidio di Silvi la procura chiude le indagini e chiede il processo per lui e per il giovane fermato a Londra sono imputati per l'attentato al direttore della motorizzazione di Chieti avvenuto un anno fa e poi in taglio medio i banditi fanno saltare il quindicesimo Bancomat colonnella preso ancora di mira uno sportello ex Tercas bottino di 15.000 euro 5.000 sono stati lasciati a terra ci fermiamo con la prima parte di mattino 6 tra poco la seconda prima però le previsioni del tempo e un po' di pubblicità di nuovo buongiorno alla seconda parte di mattino 6 che iniziamo con il messaggero Abruzzo possiamo vedere sanità le città divise per il super ospedale c'è il no della regione la consulta dei medici pescaresi non ottiene le competenze teatine l'assessore Paolucci le scelte sono già state fatte con chiarezza contro le richieste del capologo Adriatico il sindaco di Chieti il consigliere del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi e poi in basso bus rivoluzione attua la CGL non si ferma venerdì nuovo sciopero avanti ancora siamo alle pagine di Pescara torniamo al diritto bevi l'acqua è stato il mio amico a dirmi di sparare davanti al Jeep Massimo Fantauzzi parla e tira dentro il secondo uomo il piano è suo dovevo gambizzarli il presunto complice già indagato per concorsi in omicidio bevi l'acqua era con un'altra persona entrambi ci avevano offeso voglio dire tutto al PM di Pescara l'interrogatorio segna una svolta nell'inchiesta sul delitto del ROM si aggrava la posizione di NM queste le iniziali del nome indagato apertamente come indicato apertamente come l'istigatore ascoltato due volte con il difensore e poi in basso telecamere anticrimine l'area metropolitana si blinda avanti ancora siamo sempre nelle pagine di Pescara accordo ritrovato in aula via libera al piano sociale il sindaco ricuce lo strappo ieri sera l'approvazione in consiglio comunale Forza Italia nei centri per minori vietati riferimenti all'orientamento sessuale politico e religioso testo migliorato con l'inserimento degli emendamenti condivisi il documento vale oltre 14 milioni poi in basso Luciano Materazzo addio al pescarese vero che amava il mare e la vela avanti ancora e siamo sempre a Pescara i prof pescaresi traditi dal telefono parliamo solo su Skype dobbiamo essere prudenti dice del Federico a proposito delle cattedre da assegnare l'altro tributarista indagato Massimo Basilavecchia citato da due dei colleghi arrestati fa pesare il suo consenso gli atti dell'inchiesta di Firenze svelano i sospetti dei PM sui casi di corruzione per le abitazioni per le abilitazioni perdona all'insegnamento e poi in basso Cappelle o Via Giovi è rissa per la sede della nuova chiesa una maggioranza trasversale pronta a contrastare l'indicazione di sindaco e curia per il Carmelo e poi in basso penne inchiesta sul pasticcio delle scuole una è terremotata l'altra mai costruita avanti con le pagine dell'Aquila del messaggero Abruzzo più di mille poveri in città approvato il piano di aiuti drammatico il quadro illustrato in consiglio in difficoltà quasi il 50% delle famiglie in 300 hanno chiesto la casa popolare pochi soldi per il programma di aiuti ok all'intervento in ambito sociale in maniera bipartisan anche se la maggioranza vuole una rimodulazione per il prossimo anno tra i problemi quello dei minori arrivati dall'estero non accompagnati sono ben 30 ospiti centri di accoglienza nei centri di accoglienza e poi vediamo in basso la cronaca evade e si schianta e picchia i carabinieri Massimiliano Sciri accusato anche di aver aggredito una ragazza per rubarle il postamat avanti ancora sotto processo Pirozzolo e del principe l'ex segretario generale del comune e l'ex dirigente dell'OMPI sono finiti a giudizio per una serie di presunti favori incrociati la funzionaria avrebbe anche ottenuto soldi da un imprenditore nell'ambito dell'assegnazione di alcuni lavori di facchinaggio e poi ancora un consiglio comunale dei ragazzi la richiesta delle mamme al sindaco dovrebbero occuparsi di scuole tempo libero e attività sportive e luoghi di aggregazione avanti con la pagina della marsica siamo ad Avezzano tribunale arrivano tre magistrati la novità comunicata dal presidente degli avvocati Colucci colmeranno i vuoti d'organico previsti nei prossimi mesi forte l'impegno per non depotenziare palazzo di giustizia l'opposizione attacca il sindaco amministrazione assente e siamo alle pagine di Chieti teatro bicentenario con Ugi sognando Turandot alla Civitella tanti i protagonisti illustri da Pappano al concerto della filarmonica lussemburghese il sindaco vara un comitato per l'evento invita Legnini Chiavaroli e Monsignor Forte Marrucino in fermento il presidente del CDA Sicari è una festa della cultura e poi di spalla autovelox mal posizionato tutte le multe sono nulle giustizia sociale andava installato sull'opposto senso di marcia lo dice il decreto del prefetto in basso la cassazione del vecchio non poteva reiterare illeciti avanti ancora e siamo alla pagina di Lanciano addio a Pino Valente Lanciano piange l'amato vice sindaco si è spento a 47 anni dopo 4 mesi di lotta con la malattia Pupillo il sindaco di Lanciano perdiamo un politico appassionato che ha dato tanto vediamo a tal proposito il servizio il suo sogno più grande era diventare sindaco di Lanciano la sua città e aveva fretta quella fretta di chi sapeva bene che la vita vale la pena di essere vissuta pieno ogni giorno come fosse l'ultimo Pino Valente 47 anni fondatore e leader della lista civica di maggioranza Progetto Lanciano è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti dove era ricoverato da sabato scorso ci era tornato dopo aver iniziato un lungo percorso di abilitativo a seguito di una malattia che lo colpì ai primi di giugno una febbre altissima improvvisa sommata ad una salute cagionevole già compromessa da precedenti problemi e con i quali aveva imparato a convivere dall'età di 16 anni poi le complicanze che hanno assalito un fisico già debilitato e la sua volontà di lottatore e maidomo davvero guerriero freintano come amava definirsi è stata sopraffatta da una polmonite che non gli ha lasciato scampo è una città ancora addobbata a festa quella che attende il ritorno del suo vice sindaco al secondo mandato dimesso in estate per motivi prettamente burocratici che richiedevano un vice sindaco presente in favore del suo braccio destro giacinto verne valente aveva conservato le deleghe come assessore al bilancio ai lavori pubblici lavorava anche dal letto d'ospedale si informava quotidianamente dell'amministrazione della città e diceva i suoi cosa fare indicando le priorità da seguire fino a sabato scorso poi tutto è precipitato un coma farmacologico prima di un piccolo intervento che aveva già affrontato ad Ancona durante la fase di riabilitazione in un istituto marchigiano infine la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere postata dal fratello Roberto su Facebook ciao fratello ora vola sulla tua Lanciano un giorno ci riabbracceremo la camera ardente è stata allestita nella casa di conversazione al piano terra di palazzo di città con apertura alle ore 19 i funerali saranno celebrati mercoledì 27 settembre alle 15.30 nella cattedrale della Madonna del Ponte per il giorno delle sequie l'amministrazione comunale di Lanciano ha indetto il lutto cittadino Valente lascia la moglie Filomena e il figlio Samuele sempre a Lanciano scacco ai ladri di pannelli solari in Frentagna coinvolti due basisti in Val di Sangro incidente alla Tecnomec operaio perde una mano braccio destro sotto la pressa vittima un ventuneno interinale di Pizzo Ferrato infortuni in aumento le pagine di Teramo parcheggi a pagamento il comune boccia tercop l'amministrazione ha stabilito di procedere ad una nuova gara pubblica l'appello di Dalberto bisogna salvare le categorie protette subito il sindaco Brucchi sotto accusa dei lavoratori così proliferano le soste abusive e poi di Spalla incassava assegni sociali per 3.500 euro denunciato tribunale blindato per la presunta vendetta di un vibratiano ad una avvocatessa poi ancora siamo sulla costa a Giulianova scarcerato muore in ospedale deceduto al Mazzini Roberto Di Martino Giuliese di 59 anni detto l'americano che era stato arrestato per stalking il procuratore saputo del suo ricovero in rianimazione ha revocato gli arresti è potuto morire da uomo libero all'imprenditore d'Antonio all'imprenditore d'Antonio spiantati reni cuore e fegato oggi i funerali lasciamo il messaggero e andiamo a sfogliare ora le pagine della città e il quotidiano della provincia di Teramo e partiamo da pagina 5 Teramano finto povero risedeva all'estero la maxi operazione della finanza sui furbetti del sussidio da 450 euro ha portato a 370 denunce in tutta Italia c'è una soglia fino a 3.999 96 euro percepiti indebitamente c'è la sola sanzione amministrativa al di sopra è scattata la denuncia e poi ancora sempre a Teramo il comune toglie ogni speranza alla Tercop bocciata la proposta di partenariato per gestire i parcheggi il 31 dicembre scade l'ultima proroga in primavera la sistemazione del Carmine firmata la convenzione tra comune TEAM e confraternità per i nuovi locali cellette e ristrutturazione e poi ancora la sede naturale della camera di commercio è Teramo fusione con l'Aquila l'AP cita il decreto calenda spetta lente con il maggior numero di imprese allora ascoltiamo le parole del presidente dell'API Alfonso Marcozzi in questa intervista rilasciata al TG6 l'API associazione delle piccole industrie di Teramo non ci sta la decisione di assegnare all'Aquila la sede legale della nuova camera di commercio che ha accorpato gli enti camerali di Teramo e l'Aquila non ci sta perché secondo la circolare del ministero per lo sviluppo economico in caso di accorpamento la sede legale deve essere attribuita al territorio che conta un numero più alto di imprese e in questo caso è Teramo ad averne di più con 42.500 aziende contro le 38.000 dell'Aquilano sono dati ufficiali pubblicati nel 2015 e nel 2016 c'è un rapporto di oltre il 20% in termini di imprese sul territorio ed è una logica conseguenza che la camera di commercio restasse a terra perché si è arrivati a questa soluzione questo noi l'abbiamo denunciato oramai da diverso tempo bisogna capire quali sono stati gli accordi trasversali all'interno di questo sistema già messi in campo l'anno scorso con il contentino di avere la presidenza molto in mente terramana con una sede secondaria che poi andrà via quindi ci sarà l'ennesimo rubacchio scusate il termine di risorse che stanno sul territorio nella sostanza noi abbiamo perso questa opportunità bastava semplicemente fare un conteggio ed è chiaro il numerico che c'è che il numero maggiore di imprese stanno su questo territorio e ne consegue che la camera di commercio il riferimento doveva restare su questo territorio potrete fare qualcosa con un ricorso per contrastare questa decisione ma non credo che possiamo questa è una semplice associazione di natura imprenditoriale che cerca di stimolare questo meccanismo è una situazione che non sta all'interno della camera di commercio per una volontà ben precisa dell'associazione stessa perché abbiamo ritenuto che quel meccanismo illogico di ripartizioni di sedie e di poltrone non andava bene pensavamo ad altro e queste sono le conseguenze che noi ne stiamo pagando i danni per effetto di una scarsa lungimiranza una scarsa attenzione una volontà di combattere perché perché la sede all'Aquila quando nella sostanza il maggior numero di imprese stanno sul territorio terramano e allora a Teramo cosa resterebbe? Secondo l'API priciole una sede secondaria e transitoria un presidente terramano in carica solo per un breve periodo insomma una spogliazione totale della realtà camerale sempre sulla città contro gli esuberi sciopera oltranza all'Atria i sindacati rifiutano la proposta di ridurre gli esuberi da 55 a 25 venerdì nuova assemblea dei lavoratori e poi ancora sempre sulla città Rellisti per un giorno a Sport sotto le stelle la ci proporrà una simulazione di un rally automobilistico e un cartodromo per i piccoli installato in via Paris e poi ancora la provincia le notizie dalla provincia musica di Vasco per salutare il panda centinaia di persone ai funerali del barista di Castelnuovo morto nello schianto contro un camion Cristopher Micolucci 26 anni che gestiva un famoso bar ed era molto conosciuto in tutta la vallata per gli eventi che organizzava l'intera cerimonia scandita dalle note di vita spericolata di Vasco e da quelle dell'ino della Juventus e poi i simboli delle sue passioni la bandiera bianconera i colori neroverdi della squadra del Castelnuovo dove Micolucci collaborava avanti ancora la banda della marmotta colpisce ancora il ventesimo colpo in pochi mesi ai danni dello sportello Extercas di Colonella bottino da 15.000 euro caccia alla banda indagini serrate da parte dell'arma la cattura sfumata per una manciata di secondi a Corropoli da Nuntis spegne le polemiche di Pirozzi il sindaco difende il finanziamento per l'abbadia arrivato dagli sms solidari edificio storico è danneggiato dal sisma so che Corropoli è fuori dal cratere così come lo sono però anche altri comuni che ugualmente sono stati riconosciuti meritevoli di un finanziamento per la ricostruzione siamo a Giulianova abusivismo e degrado in via dei pioppi sopra luogo nella struttura adiacente al centro culturale dell'annunziata tassa di soggiorno e qui siamo a Roseto gli albergatori temono lo sgambetto del comune il balzello andrà in discussione nel consiglio di domani prima dell'incontro con gli amministratori la promessa sul suo programma elettorale il sindaco aveva scritto a chiare lettere di essere contrario all'introduzione della tassa di soggiorno andiamo avanti con le pagine della città e siamo appunto a questa manifestazione mai così tanti alla cerimonia dei caduti di Bosco Martese tanti giovani arrivati in bus per partecipare alle celebrazioni della prima battaglia della resistenza annunciati 27 mila euro di finanziamento per realizzare due sentieri del partigiano di 5,6 km l'uno tra i luoghi storici della resistenza partigiana dei monti della Laga e poi ancora quattro osterie terramane nella guida Slow Food presentato il sussidiario della buona ristorazione in Abruzzo si confermano le 10 chioccioline 2017 qui abbiamo per voglia Zenobi Borgo Spoltino e Vecchia Marina che finiscono appunto all'interno della guida di Slow Food e poi lo sport chiaramente siamo al terramo sulla città con le parole del portiere Tomas Calore che non cerca alibi correvamo a vuoto queste le parole di calore il portiere rivive la sconfitta di domenica tanti errori individuali i quattro punti non possiamo essere soddisfatti la ferita brucia ancora non è stata ancora metabolizzata perché il passivo è stato pesante su tre gol non posso darmi alcuna responsabilità ci siamo parlati nello spogliatoio la prossima volta non accadrà lasciamo la città diamo lo sguardo visto che abbiamo introdotto lo sport dalle prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi siamo sulla gazzetta ecco qui Napoli 3 per 3 il tridente di Sarri castiga il Feyenoord chiaramente siamo alla Champions ieri in campo il Napoli partita senza storia 3 a 1 a segno Insigne Mertens e Kayekon ma il tecnico è arrabbiato per il gol subito poi oggi in campo Juventus e Roma signora niente scherzi a Torino arriva l'Olimpiakos Juventus obbligata a battere i greci il girone si complica servono i gol di Dybala Higuain in bilico e poi Roma d'assalto per vincere c'è il Faraone a fronte il Carabagli al Sharawi a Baku ha già segnato in azzurro in azzurro e poi PSG Bayern sfida tra polveriere di spalla leggiamo ai Milan giù la prima testa Montella licenza il suo preparatore e poi chi è D'Ambrosio il terzino salva Inter pupillo di spalletti il corriere dello sport l'apertura cuore Napoli Champions i tre tenori travolgono il Feyenoord e dedicano il 3-1 a Milik il City batte lo Shakhtar sotto la testata Ribaltone Milan Montella cambia tutto e licenza il preparatore contro la Roma Cutrone o Andresilva con Karinic difesa 3 con Musacchio Marra via dallo staff di spalla Juve stasera l'Olimpico si guaina la carica e poi Roma di Francesco non si fida rispettiamo il Carabag la prima di tutto sport c'è posto per me questo l'interrogativo Greci da battere a tutti i costi per cancellare il capo di Barcellona Allegri tiene ancora in bilico Higuain un tormentone che solo il più vita può interrompere tornando Gonzalo Toro Mica ci mette la faccia e poi Milan Montella caccia il preparatore i tre tenori fanno cantare Napoli 3-1 Alfeinor dalle 18 Carabag Roma vietato sbagliare e ora torniamo ai quotidiani abruzzesi lo facciamo con il centro siamo alle due pagine sul Pescara l'intervista a Stefano Pettinari mi stavo perdendo ho svoltato di testa Pettinari ultimi anni travagliati qualche mese fa ho capito che stavo buttando la carriera all'aria ora non voglio fermarmi l'attaccante capo canoniere della serie B svele i segreti di un avvio di stagione incredibile con 7 gol in 6 partite poi ancora sempre sulle parole di Pettinari la ricetta del Boemo i suoi consigli sono preziosi non mangio più dolci al massimo una pizza dopo la partita ma soltanto se vinciamo l'incontro con Conte avevo 18 anni quando andai al Siena l'ho incontrato troppo presto un allenatore sanguigno e soprattutto malato di vittoria poi ci sono le parole del presidente Sebastiani Benali resta fino al 2022 il libico ha poco spazio ma il presidente lo blinda pronto un contratto di 5 anni sotto leggiamo l'accordo siglato ieri dal presidente Sebastiani con il gruppo Sarni e poi le parole del difensore Mazzotta ce la giocheremo con tutti il terzino ringrazio Zeman per la fiducia dimostrerò ai pescaresi quanto valgo poi Calore parla da leader Teramo servono rabbia e cattiveria il giovane portiere non si nasconde c'è bisogno di un atteggiamento diverso già contro la fermana e poi l'Aquila parte la colletta per pagare gli stipendi assemblea societaria deserta resta la distanza tra i vecchi soci e quelli che dovrebbero subentrare intanto caccia gli sponsor per onorare le prime scadenze con i calciatori vediamo ora il messaggero con le pagine dello sport e le parole del presidente del Pescara Daniele Sebastiani aspetto i gol di Gans e Mancuso il presidente a tutto campo sul Pescara Bene Pettinari presto verranno fuori altre punte Brugman lo dico sempre può giocare ovunque Benali straordinario per lui un rinnovo quinquennale e poi ancora in basso Calore contro la Fermana sarà dura e poi sulla serie D leggiamo l'Aquila adesso è senza società i vecchi soci ieri hanno disertato l'incontro in cui dovevano pagare le spettanze la nuova dirigenza per tutta risposta sceglie di non pagare l'ultima mensilità noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6 ci congediamo andando ad ascoltare proprio le parole del Presidente Sebastiani che ieri ha parlato a margine della presentazione dell'accordo con il gruppo Sarni io ringrazio in regia Silvia Gentile ringrazio voi per la cortese attenzione ascoltiamo il Presidente del Pescara Sebastiani e poi la sigla si parla molto delle scelte di Zeman lei anche ha espresso nei giorni scorsi delle perplessità circa ad esempio l'impiego di Brugman è soddisfatto anche della gestione che sta facendo Zeman del gruppo fino a questo punto ma io non ho espresso delle considerazioni sulla posizione di Brugman a me mi è stata fatta una domanda alla quale ho risposto con molta onestà come faccio normalmente mi hanno detto se Brugman poteva giocare play io ho detto che Brugman secondo me può giocare pure in porta quindi ho esagerato un po' perché quando i giocatori sono bravi possono giocare dappertutto il mister siccome è un mister preparato ed è una persona intelligente questo lo sa e quindi utilizza i giocatori dove servono e quando servono io sono soddisfatto d'altronde c'è qualcuno che in qualche trasmissione ha detto che la scelta del mister è stata un ripiego la scelta di Zeman non è mai un ripiego soprattutto per noi perché quando uno decide di portare Zeman sa che deve lavorare in un certo modo sa che ha bisogno di certi giocatori di certe figure e quindi quando lo prendi vuol dire che non può essere un ripiego probabilmente chi dice questo non sa nemmeno di che cosa parla noi siamo non soddisfatti di più del lavoro che sta facendo il mister sono contento che i ragazzi cominciano a prendere ad assimilare quello che il mister vuole da loro è chiaro che essendo una squadra nuova avendo cambiato tanto essendo partiti anche con un'idea un po' diversa perché noi sapevamo quando il mister dice non era il mercato che volevamo fare non è che vuole buttare all'aria quelli che ha noi siamo partiti con un'idea diversa noi sapevamo che certi giocatori non dovevano rimanere a Pescara ma eravamo altrettanto convinti che se fossero rimasti sarebbero stati importanti perché dire che rimane Zampano e non sei contento vuol dire che non capisci nulla di calcio dire che rimane Benali e non sei contento vuole la stessa cosa Brugman è stessa cosa Bovo è stessa cosa nel momento in cui questi giocatori sono rimasti è chiaro che il mister in partenza ha lavorato con un'idea pensando che magari quei giocatori da un momento all'altro non ce l'hai poi questi giocatori per fortuna sono rimasti adesso lavora con un'altra idea sapendo che ha a che fare con un gruppo di giocatori che potenzialmente possono giocare tutti quanti è chiaro che poi in undici vanno in campo e ogni settimana lui dovrà fare le scelte ma lui farà allenatore per questo non è che deve fare la società non è che deve fare le scelte non è che deve fare le scelte